Io sono arrivato a un punto che non ci sto capendo letteralmente niente, io dico solo che sta per iniziare una stagione calcistica che sarà molto impegnativa e ancora non abbiamo trovato un portiere, pari che l'abbiamo trovato, pari che abbiamo inquadrato quale sarà il sostituto di Meret e quale sarà il portiere titolare della prossima stagione ma non è stato ancora scelto e non è stato ancora ufficializzato. Quali sono i problemi che sta avendo il Napoli per ufficializzare il portiere? Uno è che è uscito oggi un nome non nuovo, Keylor Navas era già uscito tempo fa, però sembrerebbe che il Napoli stia portando avanti parallelamente due operazioni per due portieri differenti. Allora il Napoli ricerca portieri per titolare in calibro sicuramente europeo, cioè si è affionato su Kepa e su Navas. Cosa sta succedendo? È venuto fuori ieri dalla emittente televisiva di calciomercato forse principale Sky Sport che il Napoli sia molto molto interessato al Navas del PSG e che il PSG sarebbe interessato anche a ricoprire l'ingaggio pur di darlo al Napoli con un prestito, un po' come è la formula di Kepa con il Chelsea. Solo che c'è una differenza ragazzi, io non ci sto capendo niente. Cosa sta succedendo? Ieri Sky Sport porta il nome di Navas, ma dall'altra parte il nemico possiamo dire Alfredo Perullà perché sappiamo che non è in grande amicizia con Di Marzio, porta il nome di Kepa che ha i dettagli. Quindi sinceramente ragazzi non è bello sentirsi dire certe cose perché uno dei due sicuramente sbaglia perché da una parte di Sky Sport che dice che il Keylor Navas sta portando avanti parallelamente queste due operazioni con il Napoli, cioè il Napoli sta portando avanti Keylor Navas e Kepa dall'altra Perullà che dice è fatta per Kepa. E io ragazzi sinceramente non so a chi credere, molte volte io credo Sky Sport perché ragazzi Gianluca Di Marzio non possiamo negare che non sia un esperto di calcio mercato, però stavolta, questa volta faccio un'eccezione, mi sento di credere di più a Perullà. Perché secondo me il portiere che vestirà la maglia del Napoli la prossima stagione e che giocherà titolare a Verona sarà Kepa perché Kepa per chiudere con il Napoli mancano gli ultimi dettagli sui bonus, anche se la gente ormai ha fatto sapere tutto il Chelsea, sembrerebbe il Chelsea anche trovato il sostituto, il Chelsea grazie è prontissimo appunto per lasciare Kepa e per farlo andare a Napoli. Si è parlato di questa trattativa che il Napoli porta avanti parallelamente per Keylor Navas. Parliamo di Keylor Navas, allora come operazione sicuramente è buona perché è come quella di Kepa, però con una differenza che Kepa ha 27 anni e Navas ne ha 36 se non sbaglio. Allora, giusto, un portiere può giocare secondo me a altri livelli fino a 37-38 anni ci può giocare, per cui Navas secondo me ti può fare due anni buoni, però tra Kepa e Navas c'è una grossa differenza. Il secondo portiere, qual è la differenza sul secondo portiere? Secondo me, allora se Kepa arriva a Napoli il portiere secondo va preso di esperienza, che non abbia paura di giocare la Serie A e che abbia già giocato la Serie A, cioè Siriu. Mentre invece se dovesse arrivare Navas, cosa sarebbe più opportuno fare? Prendere un secondo giovane che possa venire a Napoli a fare il secondo e apprendere, ad apprendere esperienza dal primo che sarebbe Navas. Per cui, per dirvi un carne secchi. Carne secchi ad esempio sarebbe l'ideale per far arrivare Navas, in modo che arriva Navas, come seconde carne secchi. Cosa che il Napoli non farà, perché carne secchi non lo può prendere, non lo spenderà 18 milioni per carne secchi. Al momento le disponibilità economiche sono quelle, già tanto se ne spenderà 30 per Aspadori, cosa che già vedo difficile. Però si spera. Per cui, molto più facile, secondo me, l'arrivo di Kepa sotto questo punto di vista, in modo da avere Kepa in prestito, ingaggio coperto dal Chelsea, e un secondo a parametro zero come Siric, che non prenderebbe praticamente niente di stipendio. Anzi, dovrebbe ringraziare che la sua età va a fare il secondo in una squadra che fa la Champions League. Per cui, secondo me, il Napoli alla fine andrà a prendere Kepa a porta. Navas, dicono che è più di un'idea, ma anche secondo me è più di un'idea, però ti dico, c'è da affiancargli uno giovane. Navas gli può affiancare Vicario, gli può affiancare, per dirti, uno giovane promettente, che venga a fare il secondo, che venga a prendere esperienza, che sappia giocare, e che quando Navas dovesse andare via, abbiamo questo secondo che sa giocare a porta, chissà, senza paura che ha preso esperienza, da un portiere più forte di lui come Navas. Per questo, secondo me, ragazzi, la vedo difficile, perché il Napoli poi debba andare a trovare. Io, nella coppia Navas-Siru, credo poco, perché comunque sono due anziani, e tra un anno, barra due anni, ti si ripresenta il problema portiere. È così, perché, ragazzi, se arriva Navas-Siru, tra un anno ti si può ripresentare questo problema. Per cui, secondo me, meglio continuare la linea Kepa, meglio portarsi a casa Kepa, perché, ragazzi, Kepa entro sabato, se spero arrivi sabato, c'è l'ultima migliavole stazionale. Cioè, noi rischiamo di giocare con gli acquisti nuovi, senza avergli fatto fare manco un amichevole con la squadra. Sapete anche che non è una cosa del tutto normale. Cioè, non è normale che venga Raspadori a fare magari il titolare e non ha fatto ancora un amichevole. Non è normale che venga un portiere che non ha giocato ancora con la sua squadra, non ha sperimentato ancora cosa significa giocare con la difesa del Napoli. Cioè, ragazzi, Kepa deve arrivare e deve cominciare a fare intesa con l'impostazione, con Kim, con Rachmani, con Di Lorenzo, con Mario Rui. Cioè, non è possibile che arrivi Kepa a cinque giorni all'inizio del campionato e lo si fa giocare a porta di titolare, perché Kepa non sa manco come deve passarti la palla. Io mi aspetto perché Kepa arrivi questa settimana e che abbia una buona settimana di lavoro e che abbia un amichevole. Cioè, Kepa sarebbe il top. Oggi siamo a giovedì. Sarebbe il top se si chiudesse oggi che giovedì. Visite mediche, venerdì allenamento, sabato partita con teolo spagnolo. Sarebbe il top per Kepa, secondo me. Perché, ragazzi, se farà arrivare un portiere senza amichevoli, un portiere, uno di due arriverà senza aver giocato con il Napoli. Probabilmente Siru arriverà senza aver giocato mai con il Napoli. E fin qui ci posso allestare, perché è un secondo portiere. Ma il primo portiere, cavolo, cioè, vorremmo fare qualcosa. Ultimi minuti, aggiornamenti di calciomercato. Miret è vicinissimo alla Spezia, oggi si potrebbe chiudere, ma ovviamente il Napoli, prima di chiuderlo allo Spezia, Miret vuole capire se è realmente chiusa la trattativa per 1-3 Kepa in Navas, che probabilmente sarà Kepa. Per cui, appena si chiude Kepa, si chiuderà anche Miret, che andrà in prestito allo Spezia. Rinnoverà con il Napoli fino al 2024, e poi andrà allo Spezia in prestito. Altre notizie, Zilischi rimane. Fabian Ruiz, c'è un incontro, ci deve essere un incontro per il rinnovo programmato. Non so, forse non per questa settimana, ma per la prossima settimana. Si riparlerà di rinnovo di Fabian. Raspadori, ragazzi, il Sassuolo aspetta un rilancio di De Laurentiis, che probabilmente potrebbe arrivare, però De Laurentiis non vuole tirare troppo la costa, perché comunque il Sassuolo chiede cifre un pochino, forse troppo spropositate. De Laurentiis vuole fermare intorno ai 30 milioni. Io penso che, se il Sassuolo chiede 40, e De Laurentiis offre 30, secondo me sui 35 si chiude. Sui 35 si potrebbe chiudere. Io mi spingerei a parlare con il Sassuolo e offrirgli una cifra fino a 30 milioni. In fondo il Napoli ha anche il sì di Raspadori. Il sì conta, però fino a un certo punto, perché se non si trova l'accorto, Raspadori comunque non è uno di quelli che si mette a far casino, a dire voglio andare via per forza. Se il Sassuolo dice no, deve rimanere. Raspadori sta buono e un anno rimane al Sassuolo. Quella è la mia paura, è la mia preoccupazione. Per cui bisognerà stare a vedere. Si spera ragazzi, si spera, perché Raspadori deve assolutamente arrivare, deve assolutamente prendersi. Questo Napoli deve portarlo più in alto possibile, cosa che rischiamo di non poter fare il prossimo anno. Ragazzi, io vi saluto. Questa è la news di Calciomercati Oggi. Oggi si è parlato di portieri, che è forse l'argomento più scottante in casa Napoli. Lasciate un commento qui sotto per scrivere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun contenuto. Lasciate like al video, poi fate quello che vi pare. Ovviamente grazie a questo canale in crescita, dobbiamo farlo crescere. Arriviamo a 400 iscritti entro poco tempo. Poi guardate i short che ogni giorno escono. Short oggi non so se usciranno, però ogni giorno ne escono sempre almeno due. Per cui state tranquilli che il canale è attivo. Guardate i video se volete essere informati su tutto il sistema Calcio Napoli solo su questo canale. Un saluto da Bombermata.